E ascoltiamo invece un'amica, una cantante straordinaria, una donna che ha saputo affascinare tutti quanti, uomini e donne con il suo stile, con la sua grinta, con il suo look inconfondibile. E' Loredana Bertè che ci canta alla corda giusta! C'era una volta, c'era il sentimento sì, stringiti forte e già bloccati qui, ma chi l'ha detto certo, non l'ha detto a me, no per me l'amore non è un handicap. Un posto neutrale, una stazione, un bar, non mi ricordo come ci è stato cominciare, in uno sguardo vero, questo non si sa, c'è il veleno della femmina che vuoi. E voglio, voglio mettermi con te, fare fuori, fare tutto quel che c'è, e questa notte sento sento che, toccherai la corda giusta dentro me. E poi, voglio, voglio mettermi con te, fare fuori, fare tutto quel che c'è. E questa notte sento sento, sento che, tutto quel che c'è, la corda giusta dentro me. La corda giusta La corda giusta E poi, voglio, voglio mettermi con te, fare fuori, fare fuori, fare tutto quel che c'è, e questa notte sento sento che, tutto che vai la corda giusta dentro me. E poi, voglio, voglio mettermi con te, fare fuori, fare fuori, fare tutto quel che c'è, e questa notte sento sento che, tutto che vai la corda giusta dentro me. E poi, voglio mettermi con te, fare fuori, fare fuori, fare fuori, fare fuori, fare fuori, fare fuori, fare fuori. La corda giusta Bravissima Loredana, è bellissima, ho questo look a metà tra una Carmen e il rock, che poi è un po' la sua passione, da sempre. Anche tu? Anch'io, un bel rosso, un po' Carmen, sì. Passione. Passione. Parliamo un pochettino di passione, perché l'estate è un po' la stagione delle passioni, l'estate è calda, la stagione è un po' magica per te. È la mia preferita. È la tua preferita, quindi sì, se non sbaglio è proprio d'estate, non fa è successo un evento che ha sconvolto la tua vita. Esattamente, ancora mancano due mesi, ad agosto. Mancano due mesi ad agosto. Il primo anniversario. Il primo anniversario di questa splendida storia con Pion Borghe che tu stai vivendo, anzi io lo so che è qui tra le quinte da qualche parte, che ti sta ammirando con passione e con amore. Senti, e quest'estate come la passerai? Quest'estate la passerò lavorando, perché a Stoccolma cominciamo la lavorazione del prossimo album, che uscirà a febbraio prossimo. Senti, ma tu come fai? Perché adesso sai, uno dice, vabbè, sono innamorata di quello di un uomo che vive in un'altra città. Ah, posso dire una cosa? Intanto, grazie ai miei avvocati Marenghi e Rimini, sono divorziata, finalmente. Questa è la notizia. Finalmente adesso puoi coronare il tuo sogno e ci sarà questo matrimonio, sa da fare. È nei nostri piani sicuramente, ma non sappiamo quando. Va bene, anche questo. Comunque devo dire una cosa, io ti vedo sempre agli aeroporti, perché tu sei un po' Monte Carlo, un po' a Roma, un po' a Milano, a Stoccolma, ma è complicatissimo. Sì, complicato, però la vita insomma è un po' complicata, però bisogna viverla. La tua formula per la vita, cioè per vivere bene, secondo te? Cercare di essere felici. Cercare di non smettere mai di sognare. Ecco, e allora questo mi sembra un bel messaggio per l'estate, un'estate piena di felicità e di sogni. Sì. Ve lo raccomando, Moredana, per te. Grazie.